bella a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video io sono maullo 941 e oggi siamo tornati sulla maullo craft signori miei siamo precisamente dove ci siamo lasciati l'altra volta ovvero all'interno della miniera io sento degli strani rumori di mostri urla e cosa varia siamo nello stesso punto che ci siamo lasciati l'altro giorno signori miei all'interno della miniera abbiamo un attimo l'inventario che è un po una cosa brutta una ciofeca come se potrebbe utilizzare altri termini ma voglio essere pulito in questo video quindi vediamo un attimino di farci un po di materiali io non ricordo hanno che ho pensato ad avere pochissimi materiali invece qua c'aveva il ferro 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 abbiamo tantissimo ferro signori cortesemente vorrei evitare di morire possiamo evitare di morire costerebbe tanta roba non abbiamo più ferro a portata di mano ok allora stiamo calmi buongiorno salve chi è che parla così tanto che sta rompendo le scatole salve buongiorno la questa casa se non sbaglio l'avamo vista l'altra volta sì perfetto dovevamo andare in questa direzione l'ultima volta se non sbaglio sì continuiamo l'esplorazione raga allora di quando c'è nulla di quando c'è nulla di qua c'è qualcosa di brutto me lo sento mettiamo delle torce torce di quattro c'è di qua di qua c'è uno smeraldo che paranoia voglio voglio diamanti non voglio smeraldi ma porca miseria né voglio 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 diamanti non vuoi quando di qua ci uniamo a dove erano prima ok andiamo andare di qua e poi c'è qualcosa no c'è del carbone che però lasciamo tranquillamente lì di quella strada finisce da sopra c'è altra sta enorme sta caverna raga è enorme enorme tra poco sto a finire poi le torce la bislazuli carbone niente la bislazuli ne ho no quindi andrei a occupare uno spazio alimentare che non mi serve abbiamo un po di carbone così facciamo un altro po di gioco di torce raga regoliamo questo carbone così facciamo un altro po di torce mi bastano mi bastano facciamo le torce rapido veloce indolore d'altro abbiamo pochissimo carbone abbiamo poco carbone raga com'è che così poco carbone non lo so non voglio sapere ricordo che sono morto tante volte l'ultima volta e non è un bellissimo ricordo allora continuiamo la nostra ricerca raga continuiamo la nostra ricerca ai ai ragno dello schifo da dove sei arrivato perché come non li sopporto questi ragni raga no c'è uno spawn lì di ragni eccolo un altro che si lancia all'avventura devi morire anche tu muori 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 mi devo cercare di rompere subito sto spawn il più velocemente possibile il più velocemente possibile perché non li sopporto questi ragni ma vattene a quel paese ok stiamo calmi mangiamo mangiamo tutto tranquillo e felice signori miei vediamo di cercare qualche altra cosa interessante raga ok sono arrivato in fondo allo spawn dove c'erano i ragni e là c'è una bellissima cassa signori guardate cosa c'è qua guardate cosa c'è qua un lago di lava pauroso signori miei secondo me non li troviamo dei diamanti lì sotto li dobbiamo trovare per forza dico non possono trovare dei diamanti là sotto là c'è uno scheletro no è mio occhio che vede male andiamo a vedere cosa c'è dentro questa cassa raga andiamo a vedere cosa c'è dentro questa cassa di qua ci sta nulla no tutto chiuso cassa fra 3 2 1 sbam ma che cagate terribili no no non del tutto questo piccone lo lasciamo ci vediamo il piccone quello messo meglio ci vediamo il carbone ci vediamo le torce che sinceramente ci servivano se io ricordo il tasto per prendere le cose qual è il tasto porca di una paletta ambriaca io ce l'ho già perché non me le fai prendere tutte qua niente va bene a perché non ne ho non uno spazio alimentare hai ragione hai anche tu hai ragione lasciamo questa redstone pigliamo il carbone pigliamo il pane le rotaie boh vabbè le rota le pigliamo tanto ora torniamo qui inventario le torce le mettiamo qui perfetto continuiamo l'esplorazione raga signori miei altra cassa per noi se almeno a meno che gli occhi non mi non mi non mi dicono cose strane altra cassa per noi andiamo a ricordare con l'altra cassa signori miei andiamo a ricordare con l'altra cassa torcia qui torcia qui di quasi sale ancora quanta norma questa attenzione 3 2 1 sbam una mela d'oro attenzione finalmente qualcosa potrebbe se minimamente interessante semi di zucca ma a me non me ne frega niente dei semi di zucca quindi ci vediamo la mela d'oro ci vediamo le rotaie e queste alimentate le lasciamo stare perché non ho cosa possiamo passare queste ci vediamo le rota alimentate che magari possono tornare a essere utili ok di qua dove si va continuiamo l'esplorazione raga continuiamo l'esplorazione continuiamo l'esplorazione ragazzoni continuano l'esplorazione raccolto un altro po di ferro un altro po di carbone ma per ora niente di interessante sono sempre zone nuove nella miniera qui c'è dell'altro ferro che però però lasciamo lì dove qua c'è niente no sento degli strani mostri ma non c'è niente continuiamo l'esplorazione raga niente ragazzoni non abbiamo trovato nient'altro di interessante in questa miniera di conseguenza torniamo indietro e sto recuperando un po di legno perché comunque magari per fare gli sticchettini un po di legno ci può tornare sempre utile o per un'emergenza qualsiasi quindi recuperiamo questo po di legno tanto per dire che comunque abbiamo anche una piccola scorta di legno dopo di che dopo di che signori mi andiamo verso quel canyon che avevamo trovato andiamo esplorare il canyon signori mi vediamo di trovare qualcosa interessante soprattutto vediamo di trovare qualche diamante raga non posso tornare a casa senza diamanti allora come possiamo scendere ragà c'è qualcosa che non mi torna mi sono sfracellato le ginocchia e non mi è calata completamente la fame né cuoricini né niente bug assurdo di cui rendo grazie a chi mi ha aiutato in questa caduta allora di là non penso ci sia nulla scendiamo di qua signori miei ma com'è che non mi sfracello le ginocchia qualcuno mi dice perché non mi sfracello le ginocchia la cosa mi piace tantissimo ogni tanto un po di fortuna anche dalla mia parte allora io direi non voglio essere cattivo ma un poco di acqua in tutta questa lava ci sta ok ok vedete qualcosa interessante voi io no ora però per sicurezza noi ci facciamo un bellissimo percorso così stretto questo ferro loro io ho recuperato tutto il ferro che c'era lungo la mia strada signori miei non ho lasciato niente al caso il ferro che abbiamo trovato ci stiamo portando tutto quanto a casa li trovo secondo voi dei diamanti in questa valle di lava secondo voi o è molto più probabile che io muoia malamente secondo me io muoio malamente raga di qua c'è qualche entrata qualche cosa strana acqua acqua tanto ferro altra acqua di lì smeraldi che paranoia si smeraglia hanno rotto le scatole vero troppi smeraldi signori miei troppi smeraldi di qua c'è qualche altra apertura dove si fa di qua ok vanno state vedendo nulla vedo di mettervi anche un creperino bel creperino fa esplodere tutto grazie no dove fa esplodere tutto brutto scemo guardate che rimasto di sulla porta è fermo che questa rispettacri per che te ciappo io e io te ciappa non ci so problemi te ciappo male te ciappo male guarda che non esplode c'è qualcosa che non va comunque oggi col videogioco tutto un po buggato tutto un po bello così meglio così ma di qua c'è niente non vedo assolutamente una cippa di nulla signori quindi inutile che perdiamo tempo in questa direzione qua c'è del ferro mangiamoci un pesciolino che la cosa migliore abbiamo sprecato una torcia per metterla la ma non fa niente recuperiamo quest'altro ferro abbiamo quantità industriale e poi continuiamo la nostra ricerca nel canyon signori miei siamo tornati nel canyon signori miei siamo tornati nel canyon sperando di riuscire a trovare qualcosa di interessante e invece troviamo semplicemente ghiaia che ci serve la ghiaia a niente allora ci sono dei lavizzazzoli me lo so visto in testa raga mi so visto la ghiaia in testa per un attimo ho temuto il peggio però va bene allora noi stiamo rischiando tantissimo sapete quanto sono bravo io praticamente a evitare la lava noi stiamo camminando a filo di lava allora lasciano lavizzazzoli oro oro ma niente diamanti facciamo un attimino il punto della situazione salve 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 siamo un attimino il punto della situazione la c'è uno smeraldo ma mi secca tantissimo andarla a recuperare qualcuno mi sa che è cascato nella mia piattaforma e infatti zio questa piattaforma è per uno non è per due te te ne sta per i fatti tuoi recuperiamo quest'oro anche se non serve a niente voglio farmi tante armature d'oro raga voglio farmi tante armature d'oro anche se quest'oro non serve a niente recuperiamo questo smeraldo prima che poi qualcuno nei commenti mi dica lasciato lo smeraldo recuperiamolo ok che altro fare signori miei a questo punto raggiungiamo l'altra sponda della nostra bellissima questo che non è che stiamo completamente distruggendo mettendo al lavoro ovunque ma ce ne freghiamo altamente tanto non torneremo mai più qui a meno che non dovessi trovare una fonte infinita di diamanti sarebbe una cosa bellissima ma non troveremo mai una fonte infinita di diamanti riusciamo a raggiungere quell'altra sponda di là a sto punto dai ce ne prendiamo per così poco metto un altro poco di acqua qui perfetto mamma mia che mi sono visto a mare abbiamo completamente abbandonato la nostra miniera ma noi dovremmo anche un attimino riuscire a rientrare verso casa ok calma spada in mano torcia e non ci sta nulla di qua se no se no qualcosa per salire proviamo a salire raga da qualche parte si andrà a finire no assolutamente no è tutto bloccato tutto fermo tutto chiuso bello così ottimo allora dire di fare una scala verso l'alto e ce ne torniamo verso su raga perché non abbiamo assolutamente e speranza di poter tornare indietro non c'ho mi niente voglia di tornare indietro raga oddio c'era una caverna aspettate fermi tutti fermi tutti ecco vedete c'era quella che c'era leggermente sfuggita però vedo che ci sono degli scheletri quindi dobbiamo cercare di essere più rapidi veloci a metterci in sicurezza perfetto ok sicurezza prima di tutto signor me sicurezza prima di tutto riusciamo a salire a prendere a ceffoni quegli scheletri secondo voi non lo so quanti quanti pistelli stanno morendo raga voi non avete nemmeno l'idea dai 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 che vi picchio male dove dove sei zio dove sei vieni qua vieni qua che ti picchio male e vieni qua che ti picchio male voglio farti tanto affettuoso anche a te ti picchio male anche a te la lotta contro gli scheletri dai è così c'era anche uno zombie che voleva partecipare a questo video e lo stiamo facendo pure fuori ok mangiamo c'è tantissimo ferro questo è buono sento anche uno scheletro ok noi stiamo tornando nella zona della miniera stiamo tornando nella zona della miniera ci sono un po di troppi scheletri per i miei gusti un po di troppi scheletri dovete morire tutti quanti male tu devi morire anche tu devi morire anche tu zio ce n'è un altro no perfetto abbiamo il tempo di recuperare il cibo ok continuiamo l'esplorazione raga vediamo se troviamo dei diamanti basta ne posso più prendere ferro